Cristiani specialisti nel chiudere le porte e chi è spinto dallo Spirito Santo ad andare avanti. È uno dei passaggi dell'Omelia del Papa a casa Santa Marta che prende spunto dall'immagine dell'acqua risanante contenuta nel libro del profeta Ezechiele e dall'acqua della piscina di Bet Zatà dove sostava un uomo ammalato da 38 anni che Gesù spinse verso la guarigione, vincendo la Cidia che lo rendeva triste e pigro. È sullo spingere in avanti che insiste Francesco, sulle porte aperte della Chiesa, casa di Gesù, che accoglie in ogni momento chi è ferito, chi vuole rientrare nel popolo di Dio perché lo Spirito Santo ha agitato il suo cuore. Così il suo invito è la conversione alla misericordia di Gesù perché la legge sarà compiuta solo nell'amore verso Dio e il prossimo. Quante volte, oggi, nelle comunità cristiane, trova le porte chiuse. Ma tu non puoi, tu non puoi. Tu hai sbagliato qui e non puoi. Se vuoi venire, viene alla Messa domenica, ma rimane lì, ma non fare di più. E' quello che fa lo Spirito Santo nel cuore delle persone. Il cristianico, psicologia di dottore della legge, distrugge. Il cristianico, psicologia di dottore della legge, distrugge. Il cristianico, psicologia di dottore della legge, distrugge.